Adesso parlo io, sembra quasi il sottotitolo di uno dei monologhi preparati da Adriano Celentano ed invece a parlare di cose probabilmente molto più serie rispetto a quelle del molleggiato nazionale sarà il sindaco di Nocera Superiore, Gaetano Montalbano. Adesso parlo io, in pratica è un manifesto già diffuso in città, una sorta di promemoria per gli abitanti di Nocera Superiore dell'attività svolta dall'amministrazione Montalbano. Troppe infatti sono state le chiacchiere negli ultimi mesi, ha detto il primo cittadino, è l'ora dei fatti dell'azione, dell'agire. Un agire che Montalbano dice è stato sempre volto al bene della comunità senza pensare a sperperare danaro pubblico e tentando di applicare il minor numero di aumenti per le tasse. Niente pagamento IMU sulla prima casa, nessun aumento per la Tarsu o Ratares. Montalbano è stato chiaro, negli ultimi due anni mi sono liberato di poltrone, di vincoli di partito allontanato dai falsi messia che invadono le strade perché potevo essere un sindaco politico ma ho preferito essere il cittadino sindaco di tutti. Bisogna dire basta a quelli che parlano sui marciapiedi senza sapere nulla che forse probabilmente avrebbero bisogno anche di studiare molto prima di sedere tra i banchi del Consiglio Comunale e far capire anche alla gente che molto spesso qualche rinuncia fatta all'epoca è un vantaggio per la collettività di oggi. Non si è interrotto il percorso amministrativo, sicuramente da oggi in poi vedranno tante altre cose e così ho cercato di rispettare le promesse del mandato, di finire direi in bellezza e di concludere un'esperienza che per me è stata sotto certi aspetti anche drammatica ma importante, costruttiva, vissuta con la consapevolezza, così come ho detto che la politica purtroppo non è solo passione ma sacrificio di applicazione se uno non si mette a studiare sicuramente non può affrontare tanti problemi forse abbiamo peccato in qualche cosa, magari si è preferito qualche opera pubblica in meno ma abbiamo cercato soprattutto di dare tutti i servizi possibili alla città in questo comune non si paga l'IMU, non c'è aumento della TARS o meglio della TARS semplificata poi tutti possono dire tutto quello che vogliono.